Con il consigliere regionale della Lega Nord, consigliere di minoranza nel parlamentino di Citerna, potremmo dire, dunque, dove eravamo rimasti, Cirignoni, perché lei porta in consiglio comunale, stiamo parlando di Citerna, due problemi che vengono dalla passata amministrazione. Parliamo di Umbriacque, del potabilizzatore, problema ancora lontano da essere risolto? Sì, queste sono due problematiche che sono legate ad Umbriacque in due modi diversi. La prima è perché, per quanto riguarda il potabilizzatore, che riguarda tutta la popolazione dell'Alto Tevere Umbro, non solo i cittadini residenti nel comune di Citerna, è un'opera che costerà circa 3 milioni e mezzo di euro. Quando sarà finita, doveva essere consegnata nel 2010, siamo nel 2014, quindi quattro anni dopo, e risulta totalmente abbandonata lì sulla collina di Citerna a fare purtroppo brutta mostra di sé. Di fatto questa è una problematica che noi avevamo già sollevato, proprio sull'incompiutezza di quest'opera, che invece dovrebbe essere molto utile per i cittadini del nostro territorio, per migliorare la qualità delle acque che beviamo tutti i giorni, quindi quelle che ci vengono fornite tramite l'acquedotto. E ahimè, purtroppo, come succede spesso in Italia, siamo ancora lì a vedere un'opera che è abbandonata a se stessa e per la quale Ombraque ha fatto sapere che un paio di ditte che avevano vinto l'appalto sono poi fallite, quindi stanno ancora ulteriormente aspettando di riassegnare quest'appalto e quindi non si sa, non si capisce bene quando finiranno questi lavori. Io su questo credo che è ora di finirla con l'ipocrisia per la quale noi ci diciamo che queste opere, sì, ma tanto siamo in Italia, quindi purtroppo si sa le opere come vanno a finire, si iniziano a un momento, poi non si sa nemmeno bene, mai bene, quanto andranno a costare, quando saranno consegnate. Io spero che alla fine qualcuno, ho fatto tante interrogazioni anche su quest'opera, spero che alla fine magari, come è successo col Mosa Venezia, anche per il potabilizzatore di Citerna, un'opera comunque da 3 milioni e mezzo di euro, 7 miliardi deve chiarire, insomma ci sia un po' di giustizia, qualcuno vada finalmente a vedere il perché di tutti questi ritardi e a verificare se eventualmente non ci sia stata qualche altra responsabilità rispetto solo al fallimento delle dette che si sono avvicendate per la sua costruzione. La seconda petizione riguarda l'annullamento delle bollette che sono pervenute ai cittadini alcuni mesi fa. Sì, questo come dicevo è il secondo problema nel quale c'entra un blacque e che riguarda i cittadini dell'Alto Tevere Umbro e del Comune di Citerna, in quanto, come tutti sappiamo, ormai, lo ripeto brevemente, un blacque a suo tempo emise oltre 5 mila bollette pazze, chiedendo delle quote fisse ai proprietari di pozzi privati, peraltro regolarmente denunciati, 600 di quali residenti nel Comune di Citerna e le altre migliaia residenti nell'Alto Tevere Umbro. Queste bollette, grazie all'intervento principalmente mio e della Lega Nord, furono annullate poi in tutta fretta. Pende su questo ancora un esposto alla Procura della Repubblica per tentata truffa, perché mettere bollette per un valore di quasi 800 mila euro e poi dicendo che devono essere comunque pagate per forza e poi ritirarle dopo 250 reclami, insomma ci pare una questione che debba essere di giusto interesse della magistratura. Abbiamo provveduto però adesso, siccome Umbro è stato tornando alla carica dei proprietari dei pozzi per costringerli a firmare un contratto capestro che comporta un aumento quasi del 100% di quello che era stato precedentemente pattuito e Umbro lo fa avendo annullato, congelato, senza dire niente a nessuno, i vecchi contratti. Cioè ci troviamo di fronte a persone che avevano dei contratti in essere, per i quali pagavano un tot, questi contratti sono stati unilateralmente congelati da Umbro, i cittadini l'hanno saputo solamente dopo aver presentato un reclamo e adesso Umbro gli vorrebbe imporre di firmare un altro tipo di contratto che comporta un aumento molto elevato. E di fatto noi ci siamo schierati ancora una volta a difesa di questa gente e adesso ultimamente abbiamo presentato questa petizione con oltre 200 firme raccolte in tre giorni nel Comune di Citerna perché secondo noi debba fare un'azione legale nei confronti di Umbro e debba essere il Comune capofila, visto che ci sono 600 utenze, di tutti i comuni d'Alto Tevere in cui ci sono i cittadini che hanno pozzi privati regolarmente denunciati e quindi sono pozzi privati regolarmente denunciati per i quali i cittadini hanno sempre pagato il dovuto e per i quali adesso Umbraque vorrebbe imporre degli aumenti capestro.